Palazzo Venarte è molto felice di ospitare all'interno dei suoi spazi un'esposizione dedicata a questa arte così antica e preziosa per Venezia. Siamo veramente felici di dare spazio a questi artisti così talentuosi e così fortemente legati al territorio. La mostra di ceramica contemporanea qui a Palazzo Venarte presenta il lavoro di otto ceramisti veneziani che dialogano con le antiche ceramiche che sono presenti qui. Il nostro intento con questa mostra è di dare un'istantanea di ciò che è la ceramica a Venezia oggi dall'uso di piante, fanghi, terre della laguna, conchiglie fino alle influenze orientali. La ceramica a Venezia ha una storia antica che continua ad evolversi grazie a bravi artisti, all'associazione I Boccaleri e a uno spirito di collaborazione e di solidarietà che unisce tutti i ceramisti veneziani. Questa esposizione racconta le caratteristiche di questo tipo di produzione unica veneziana, racconta la loro ricerca e l'unicità della produzione veneziana. Quando Lorenzo e Luana mi hanno proposto di curare questa piccola mostra sulla ceramica contemporanea a Venezia, ho inizialmente cercato tra le persone che conoscevo. Ovviamente ci sono anche altri ceramisti, ma questi mi sembravano quelli più adatti perché secondo me hanno un contenuto di ricerca, di studio, di passione che va al di là della singola produzione, della semplice manifattura, ma anche un contenuto, direi, artistico. La nostra ceramica è nata come ricerca per un'estetica che richiama molto le influenze giapponesi della filosofia wabi-sabi, cioè l'impermanenza, il passare del tempo, che danno agli oggetti una patina un po' rustica, un po' particolare. Una interpretazione di quello che si può fare anche con tutto ciò che resta di un'opera finita. Quindi in realtà le mie opere sono quello che resta di un'altra opera, per cui ho portato questi piatti che si possono vedere qui, che sono praticamente uno scarto di lavorazione e nel caso, ad esempio, di questi vasi sono dei vasi che si sono cracchelati in superficie che sarebbero stato uno scarto, ma ho voluto appunto portarli per dargli una nuova vita. Tutte le mie ceramiche si ispirano alla ceramica orientale, cinese e coreana, perché per me rappresentano l'apice, l'espressione più alta e più bella della ceramica in assoluto. È un progetto in itinere, in divenire, ispirato alla storia dei mosaici e anche, diciamo, all'iconografia dei mosaici, per cui è una ricchezza di storia, di racconto, di cultura e di arte. Tutta la base è fatta in grasse, che è un materiale ceramico molto grezzo, ruvido, e l'ho associato invece a quello che è il materiale più raffinato della ceramica, la porcellana. Questi due materiali dialogano insieme, vengono lavorati in maniera plastica sul tornio. eseguo una ricerca sulle argille, sulle materie proprio del territorio, quindi una ricerca che parla proprio di Venezia e per l'occasione ho presentato dei pezzi realizzati con dell'argilla che ho raccolto in Laguna Nord dietro Torcello. Anche oggi Venezia esprime una capacità di fare ceramica che è, secondo me, di ottima qualità e di ottimo livello. grazie a tutti i nostri spettatori e di ottimo livello. grazie a tutti i nostri spettatori e di ottimo livello.